buongiorno voglio presentarvi oggi un libro di un grande poeta rimasto poco conosciuto si chiama enzo mazza lo faccio perché siamo vicini alla ricorrenza dei nostri defunti e enzo mazza ha lavorato tutta la vita ecco qui il suo libro scrivendo poesie per il figlio prematuramente scomparso in un incidente di moto esattamente 40 anni fa chiedo scusa se per una volta presento un libro in cui sono anche coinvolto come curatore ma il problema è che non si può restare senza conoscere questa voce così grande di grande intensità lirica e ve la voglio presentare con una delle tante poesie che enzo ha scritto soprattutto nelle dieci raccolte in commemorazione del figlio su questa giovane figura di adolescente teneramente scomparsa sono in grado anche di condividere lo schermo e di presentare questa poesia questa è una foto di enzo mazza nel suo studio fatta da un amico il figlio di un amico che si chiama matteo carnevali e la poesia è questa il libro è il canzoniere per fabio e altre poesie edito da betti di siena ormai pochi giorni fa direi molti subdolamente mi consigliano di non pensare ai morti mi vorrebbero come un tempo di nuovo un tavolo verde con le mie carte da giocare ed io li guardo in un trasalimento che non reprimo stupefatto non pensare ai morti non a te che sento vivo non tra i morti cancellati polvere e non il giallo d'una vecchia fotografia rivendica io non pensarti né piangere nell'angolo dove dormivi non accarezzare il tuo cuscino il bled ciò che è rimasto il cuoio della cartella i libri l'angelo sul letto molti non conoscono alcun dolore io muoio potrei dir loro ed essi io morto non mi penserebbe grazie bene 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 bene